Incidente grave al bivio di Milena sulla strada statale 189 Palermo a Grigento. Un'auto ed un camion hanno impattato violentamente in un frontale che ha visto coinvolte 5 persone, 4 a bordo di un'utilitaria e il conducente del camion. I feriti tutti di Favara sono stati trasportati negli ospedali vicini, due ad Agrigento al San Giovanni di Dio e gli altri due all'ospedale Longo di Mussomeli. La più grave è una donna che rischia a quanto pare l'amputazione delle dita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mussomeli e di Vigili del Fuoco. I feriti sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118.